Carenza personale sanitario, 60 nuove assunzioni a tempo indeterminato tra medici, infermieri e OS tra novembre e gennaio 2022. 14 medici in forza, 12 specialità diverse, 11 sono nuove assunzioni, 3 sono professionisti prima a tempo determinato che hanno scelto l'ospedale di Biella per proseguire la loro carriera. Si tratta nello specifico di dirigenti medici per le discipline di chirurgia vascolare, neurologia, medicina e chirurgia d'urgenza, medicina interna, ginecologia e ostetricia, ortopedia e traumatologia, medicina del lavoro e sicurezza, oftalmologia, urologia, ematologia e cardiologia. Questa è sicuramente una boccata di ossigeno per una carenza che esiste ormai nel nostro territorio da diversi anni.